ciao a tutte e benvenute in un mio nuovo video oggi video gioielli ed esattamente gioielli dodo però prima di iniziare vi ricordo se vi fa piacere di supportarmi iscrivendovi al mio canale ora però iniziamo subito allora ho deciso di fare questo video sui gioielli dodo perché me ne sono rimasti pochi ho ottenuto quelli che mi ha regalato mio marito e avevo tanti gioielli in più che che ho venduto quindi ho venduto quelli che non utilizzavo più ne avevo veramente parecchi e ottenuto quelli che mi ha regalato mio marito io incomincierei dal più vecchio che mi è stato richiesto da serena floril che ha un canale di vedere un anello che appunto è uguale a uno che ha fatto vedere lei solo che il mio ha la stella marina l'anello è questo è da pulire è diventato scuro e da tantissimo che non lo metto adesso l'anello è questo qui allora sull'anello c'è una storia che ho detto già a serena questo anello ha esattamente 18 anni cioè l'età del mio terzo figlio nel 2003 ho avuto quindi il mio terzo figlio per quella gravidanza lì per quanto io non avessi avuto problemi né con la prima né con la seconda sempre per via di altre persone anche se l'età che avevo era un'età non grande perché avevo 33 anni tutti dicevano di fare un controllo in più quindi la traslucenza nucale che non veniva fatta nella nostra città ma veniva fatta a Cagliari quindi quel giorno abbiamo preso l'appuntamento siamo andati a Cagliari è stata fatta questa ecografia particolare dove prende determinate misure della plica nucale e poi del naso per vedere in base alla mia età e tutto se avessi potuto avere un bambino con la sindrome di down o comunque con qualche malformazione e quindi se fosse indicato fare l'amniocentesi il giorno è uscito per la mia età avrei potuto avere la possibilità mi sembra di avere un bambino su 2000 o 3000 con la sindrome di down invece con quello con quell'esame si era allontanato tantissimo quindi loro non me la consigliavano ovviamente i parenti ma sì ma falla ma cosa ti costa l'ha fatto tizio l'ha fatto Caio che a me comunque non importava noi praticamente stavamo tornando ci siamo fermati in una gioielleria mio marito mi ha regalato questo ma sinceramente non abbiamo guardato dietro cosa ci fosse scritto e non sapevo neanche che in questi anelli ci fosse scritto dietro una frase una parola siamo arrivati in macchina me lo stavo mettendo si girava e ho visto che c'era scritta una frase la frase in questione è questa cioè sono fragile io mio marito questa frase l'abbiamo presa ovviamente ognuno la interpreta come come preferisce l'abbiamo presa come non fare l'amniocentesi sono fragile mi potresti perdere questo è il sunto di quello che abbiamo interpretato noi noi abbiamo deciso di non farla è andato tutto bene e da allora quest'anello è un anello che io ho dedicato a mio figlio al piccolo a stefano e primo è un regalo di mio marito ma non lo potrei mai vendere proprio perché dietro quest'anello c'è tutta una storia a me a mio marito molto molto cara quindi questo è il più vecchio dei gioielli che ho di quelli che ho ottenuto perché regalati da mio marito è un fuori produzione senz'altro sono pochissimi quelli che mi sono rimasti perché sono cinque pezzi proseguiamo con questo anello che non si legge più niente c'è sito sono il tuo dodo se non ricordo c'era scritto sono il tuo dodo questi anelli li abbiamo uguali io e mio marito perché a me non piace l'argento perché le cose che vengono scritte nell'argento soprattutto se si tengono fisse tendono ad andare via perché come lega l'argento è una lega morbida infatti non si legge praticamente quasi niente c'è la possibilità di mandarlo in azienda da dodo e ovviamente pagando farti rincidere tutto però sinceramente la scritta si può dire che è scomparsa in pochissimo tempo non lo so io ci sono affezionata perché comunque ce lo siamo regalati ma sinceramente non gli do il valore del costo quindi per me non vale assolutamente i soldi che abbiamo pagato devo dire la verità questo forse è stato la delusione più grande ci sono affezionata tutto quello che è però questa è stata proprio una delusione tra l'altro l'abbiamo preso sempre a cagliari perché comunque qui non c'era un negozio ma all'epoca che rivendesse proprio dodo e la mia misura non c'era e avevo preso questa misura che è poco più grande quindi non mi entra nel medio ma nell'anulare mi sta grande e lo bloccavo prima di fare 25 anni matrimonio lo bloccavo con la fede avevo la fede un anello solitario che mi aveva regalato mio marito e poi questo in seguito avevo il solitario la fede è un anello che dopo vi faccio vedere sempre di dodo bloccato sempre dalla fede quando poi abbiamo fatto i 25 anni matrimonio ho tolto tutto e ottenuto queste due quindi sì ci sono affezionata no non lo consiglio altro acquisto è una collana la collana è questa qui che io voi mi avete visto più volte portata a bracciale ha un anello che rimane in oro rosa e ha ovviamente il lucchetto che come vi ho detto più volte per me è un simbolo importante c'è scritto legami si apre tirandolo così questa parte sempre in oro rosa ed è così anche questa non la venderò perché comunque è un regalo e comunque ci sono molto affezionata a me i lucchetti piacciono tantissimo e io molte volte la porto a bracciale tra l'altro è semplicissimo anche chiuderla da sola e questo è l'altro gioiello io ne sto approfittando oggi per farli vedere visto che serena mi aveva chiesto di vedere l'anello ho detto ma perché no facciamo vedere ciò che mi è rimasto di dodo poi l'altra cosa che io tenevo su fissa ci sono molto affezionata però ammetto che anche qui la qualità non sia delle migliori e l'anello 100 per cento amore la pietra io non so se voi lo notate molto opaca c'è la scritta qua questo in oro rosa ovviamente non si vedrà niente questo io lo tenevo fisso e non era così opaco e quando lo tenevo fisso tra l'altro l'avevo mandato ad aggiustare perché era allargata una delle griff e la pietra era un po storta molto delicato non vale tutti i soldi che costa ovviamente ci sono affezionata tra l'altro ha una scatolina bellissima che io oggi non ho portato una scatolina rossa però ecco non non li vale non anche questo non lo trovo non lo trovo molto di qualità molto delicato io questo era uno degli anelli che tenevo lo stesso su fisso insieme a questo quindi tenevo questo questo un solitario per la fede per bloccare tutto lo facevano anche col cuore rosso anche questo un pezzo molto bello che non consiglio l'altra cosa ovvero l'ultima è il braccialetto che è stato fatto per san valentino il braccialetto è questo è molto bello lo consiglio l'unica pecca è che si aggancia la u tende ad agganciarsi questo mi piace tantissimo mi piace tanto il moschettone anche questo semplicissimo da chiudere da solo è molto bello per chi ama i ciondoli e tutto trovo che sia un bracciale molto particolare anche questo dovrebbe essere un fuori produzione non ho nient'altro di dodo avevo poi il fischietto la collana quella con le palline molto lunga poi avevo la campanella in oro rosa forse avevo la grande ma non ne sono sicura poi avevo la conchiglia quella grande molto vecchia che risale senza altro alla collezione di questo di questi anni qua nel cordino poi avevo un bracciale fatto tutto con le pepite un bracciale con tutti i granelli granelli mi sembra che si chiamino e avevo 5 ciondoli poi avevo un paio di orecchini in oro rosa però anche quelli qualitativamente non valevano tutti i soldi praticamente dovevi stare attento quando li chiudevi perché non non si incastravano bene c'era i schiavi di perderli avevo una collana in oro rosa dove avevo scritto il mio nome michela ecco di quella mi sono pentita sinceramente delle le di dare via le lettere e tutto mi sono pentita anche perché poi l'avevo svenduta poi cos'altro avevo avevo il polpo con i brillantini mi sembra con i brillantini neri e poi il polpo grande insomma alternato grande piccolo avevo senz'altro altro ripeto avevo tantissimo e li avevo venduti il mio primo profilo di the pop ma veramente che aveva acquistato il bracciale aveva fatto un affare io non lo stavo più utilizzando e l'avevo venduto veramente considerando tutti i ciondoli che aveva il bracciale l'anima e tutto lavoro regalato quindi serena questo è l'anello che volevi vedere adesso io lo sto mettendo così mi piace tantissimo e da tanto che non lo mettevo e si è scurito tantissimo anche se era nel nel suo pannetto basta il video brevissimo termina qua questa è la mia piccola collezione dodo non so se acquisterò altro però senz'altro questi rimarranno sempre nella mia collezione perché hanno un valore affettivo ora vi lascio al mio outfit e ci rivediamo subito così vi mostro gli accessori che indosso oggi col mio outfit di oggi ho la borsa di unica accessori ho attaccato il fularino rosso e l'ho ripreso nei capelli il giubbino il giubbino 10 m insieme al maglione che un maglione 10 m i pantaloni di motivi con una banda lucida simile smoking leggermente crop e le scarpe sono di prima donna vi lascio agli accessori eccomi qua vado in velocità ho gli orecchini di ambrosia e poi qui ho gli orecchini di stroili in oro giallo con la luna in oro giallo la collana è composta dalla collana in oro giallo di pandora e dalla piastrina che mi è stata personalizzata dai miei figli spero che l'incisione non vada via perché mi dispiacerebbe in teoria messa collana dovrebbe durare un po di più però insomma spero che rimanga perché avete potuto vedere che su cose costose quest'anello penso che costi o costasse intorno ai 200 euro quindi no parlando di un anello d'argento non è che stiamo parlando di chissà che si è pesante però considerando il costo sinceramente che vada via la frase che poi era quella che rendeva particolare l'anello un po mi dispiace poi ho il baciamano di unica accessori bloccato dal fiocchetto che mi piace tantissimo quest'anello di pandora è sempre tre fascette di pandora una semplice l'altra con gli zirconi e poi quest'altra un po più particolare l'anello ti amo i love you poi le due fedi l'apple watch e i bracciali tipo il simil cartier venduto da maida simil louis vuitton venduto sempre da maida il rebecca con la personalizzazione cremi lo stroili con i cubi e le iniziali il pandora che ha la chiave e il lucchetto il cordino uno dei 50 questo con l'orsetto il cuore che pende di aliexpress e anche questo di aliexpress con l'orsetto e poi il su fil con la foto mia e di mio marito personalizzata anche qua dietro c'era una scritta che non si vede più ma praticamente scomparsa qua c'era scritto together forever mi ricordo che c'era scritto ahimè non c'è più per fortuna c'è la nostra foto che è rimasta dico che tinta indosso è la 06 di dolce diva qua ormai si è cancellato fumo questo precious di wicon simil caffè di montale mi piace da morire guardate a che punto sono arrivata mi piace proprio metterlo sui vestiti mi sta piacendo molto di più anche di quello di equivalenza e vi ho detto tutto sì ne ho già usato quasi metà bottiglietta sono 100 ml però per 7 euro e 90 uno lo può anche fare quando tinta una bellissima scoperta questo di nabla la tonalità mia è la 2 come blush sempre questo di nabla questo invece da un effetto un po glo e questo qui è il blush adesso non guardate che sporco perché tutte le mie palette rigorosamente sono sporche ho messo il prodotto di kiko che mi piace lo stesso tantissimo e stamattina prima di fare il trucco ho messo l'olio per le labbra sempre della stessa linea di kiko vi ho mostrato tutto quindi il video termina qua spero come sempre di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo prestissimo con un mio nuovo video ciao a tutte